Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Gears of War 2 Ok, dopo aver ripetuto il cortile, adesso lo devo ripulire qua Ragazzi, come c'è da ripulire qua Minchia, che atterrazzo kamikaze Morto? Direi di sì No, non so se per la macchina o per altro Vale, tagli Oh oh Corri Dannazione Dom aiutami Ah Seriamente è dato la? Ma che Va beh Forse è colpa mia anche perchè non ho trovato lì In fondo Vabbè E anche questo errore lo correggo Non ho più la minica armata Alla macchina Beh Peccato che non possiamo guidarla eh Eh, lo vieni sparare prima Ok, direi per in galassia Ok, non si è accorto Fermo Molto SEGA Oddio Vai giù Ok, non si è accorto E... No... Non si è accorto E va con la doppia granata, allora, cavolo Oh si Danatamente si Cavolo Qui la situazione sta diventando sempre più difficile Vai così Oh, ti sono repite, devo metterle Ok, meno male che ho fatto il rinforzo di vento di pine Fatto Fatto Ah si, ecco Dice, posso buttarlo giù? Attenzione di sotto Mi servono munizioni Eh, che sono parecchio accorto Che grande Che grande Allora, direi che prendo il lanciafiamme E prendo la loro arma Ah, un uccide a candemocce Ah, un uccide a candemocce Va bene Si, a pompa E la madonna E la madonna Ciao fratello, come va? Si Rampini, cos'è? Rampini, cos'è? Sì 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 Come vermi, quali siete? Qua Qua Questa, devo prenderla Grazie mille Grazie mille Sperta, le attività nemica molto in testo tra voi e il fratello Per fortuna, il fratello evitere il martello dell'alba su dio Sperò per finitarlo Per finitarlo Bella Possono utilizzare il martello dell'alba Però Poi la vittoria è finita per ora, eh Lo utilizzo dopo Assalza questo Super A Cavolo che Desolazione e dai fuori oggi quando le armi si surriscaldano e oggi ho anche il controllo nero quando fa i caprizi dai coraggio va bene il batterio dell'alba vai alla macchina e adesso che succede nel caso qua colorano case a caso che bel panorama come si sceglie usiamo le gru per attraversare bene andiamo alle gru ma ti come dovrei fare alla sfida si parte ok devo parcheggiarlo qua io ti copro avanti portate l'alba ok ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.